In mezzo ai primi gruppi, allora, siamo con il palio di Grugliasco, vero? Sì, noi siamo la rappresentativa dei borghi di Grugliasco. In realtà Grugliasco è fatto da sette borgate, quindi oggi sfiliamo misti, rappresentanza unita di questa manifestazione, però i borghi sono sette. Noi in particolare siamo del gerbi, dopo ci sono... Sì, ma voi due chi siete in coppia? Contate? Siete nobili? Sì, sì, in questo momento rappresentiamo i nobili, i nobili della nostra borgata, quindi i nobili del gerbido, anche se è una borgata prettamente contadina, i nobili erano pochi, ma rappresentiamo quello. Allora, si parla di rievocazioni storiche, a quale anno risaliamo con voi? Risaliamo nel 1599, con la rievocazione storica del voto a San Rocco. Grazie a San Rocco la pezze a Grugliasco è passata. Benissimo, preparatissimi, l'abbiamo scoperto, giovani ma molto bravi, veramente in gamba. Allora noi continuiamo a farci la nostra passeggiata in mezzo agli altri, mi dicono i contadini, gli altri componenti del gruppo. I contadini, popolo eh. Che erano tanti ai tempi. Sì, allora, Simone, vediamo il cesto, il cesto come la donzelletta che viene dalla campagna. Certo eh. Ecco, allora, vediamo un po' chi è che ci racconta qualcosa della vicenda. Lei è la capovivandiera dei militari. Dei militari. Sì, e che cosa ha in mano, che cosa porta? La cuffia, poi porti a mangiare, porto da bere. Insomma, tutto per i militari. Sì, sì. Ah, ecco, Simone, si giri pure in favore di camera. C'è pure il coltello, sono anche pericolosi. C'è da avere paura di voi. Ma insomma, potevate anche avviare una rivolta. Rivolta. Già, dobbiamo fare da mangiare. Sì, speriamo che stasera questi coltelli restino nelle fodere, perché abbiamo un po' di paura. Però c'è attesa, c'è attesa, perché stiamo per partire. Speriamo, speriamo di partire presto, perché finiamo questa sfilata e poi... Ah, ma speriamo di partire presto, come dire, basta che ce la leviamo, non va così. E la voglia di farla. Ah, la voglia di farla, così va meglio. Quanti siete in tutto, più o meno? Non ne ho idea. 120. Ci dicono almeno 120 dalla regia, ci hanno dato il piccolo suggerimento. Bene, perfetto. Allora, i gruppi sono davvero tanti, almeno una cinquantina, e abbiamo sentito ogni gruppo e poi composto da almeno un centinaio di partecipanti. A te Fabrizio.